I'm gonna go to the place that's the best When they lay me down to die Going out to the spirit in the sky Ok, guardate il mio nuovo personaggio raga Quale c'hai? Nooo Parco di se non la facevano culone l'avrei presa C'ha le hitbox più grandi Nooo, non è vero, ho sbloccato il claxon di Delu Qual è il claxon di Del Pagliaccio? Grande, sei un campione Facciamo a gara tra con le battute ricirlate Ti invio anche una cosa, ti consiglio di guardartelo e ascoltare molto attentamente Puoi farlo sentire in live Aspetta, aspetta, fa vedere Ma è da far sentire in live? Ok Puoi farlo tranquillamente sentire in live Ti consiglio di sentire No, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Fatemi sentire Ditemi quando ci siete che partiamo da zero Eh io già l'ho fatta sentire Allora, arrivo No, sto arrivando Aaaaah Ce n'è un altro su di me Viado le casse La, esatto Grazie Raita Raita Ma non puoi capire Oh mio dio Controllate l'equipaggio No No La, esatto Io ce n'ho una Io ce n'ho una gamba Questo, pare che questo tizio l'ha timerato apposta Lo ammazzo e fa Ah, yes Another one Fuck you Anzi anch'io quando l'ho fatto C'era anche io No, no Quella è leggera Ragazzi mi ha stuprato le orecchie Questo qui, questo qui quando è morto ha fatto Ha fatto l'urla Si è dato due Tipo ha battuto sopra la coscia secondo me Ha fatto E poi ha fatto Ha urlato Una roba del genere Io ti giuro La prima volta che l'ho sentito Non mi ricordavo esattamente cosa ha fatto Ero convinto avessi detto Tin, tin, tin Comunque ragazzi Non so se lo sapete Ma si stanno organizzando Molti big streamer Per fare uno sciopero di Warzone Che cazzo ti ricordo? Si, per via dei cheater Ah, vabbè Vabbè Come è che tutti questi big streamer Che non chiamano a me, oh Va vai a fare incursa lì Ragazzi io vi avviso Allora aspetta Vi stavo dicendo stasera Va bene Possiamo giocare Possiamo giocare cattivi Tutto quello che volete Però Cambieremo lo stile del game Stasera è È full fun Completamente raga Allora Voi droppatevi al classico Ah, vi raggiungo io Mi apre la cassa raga Ragazzi sono un minion Oh come mani? Un uomo di merda Quando si fa lo sciopero C'hai fatto? Mi siete dato dal tono davanti E ho cominciato a prendermi a pugni Ora il compagno è del Burak Se sopravvive Posterai Usciamo Ok, sono nelle tue mani gamba Quando l'ho fatto c'è l'altro pure Gamba Ah ma il gamba era morto Luisito Gaming Ma che cazzo vuoi dire? Ma che cazzo vuoi dire? Che cazzo era oh? No raga ma sto gioco fa vomitare Raga, raga io vi dico solo questo Ho sparato due colpi Guardate le mie kill Ho sparato solo due colpi eh Che culo? Provocando gli nemici usando le parole Dove cazzo? Dimmi Gabbo dimmi No cazzo ho cambiato i dpi Dietro di te dietro di te Dietro di te Dallo spawn Dietro di te Gabbo Dietro di te coglione Sei un coglione Te lo stanno chiamando Pirla Quello che è un bot Ma che cazzo? Ho 3.000 dpi Dai Ho sbagliato tasto Il mouse Tocca a me Gabbo Guardami Dimmi dov'è Il compagno a Pesco Tornerà alla base L'ultimo del tuo team Completa il lavoro Aiuto Non hai avuto Fini di buona Bastardo Oh no Back in the game Back in the game Sto arrivando No Ti scongiuro Che cosa? Il fallo Sai cosa fare? No quale cazzo era? Non la trovo Non la trovo Aiuto scusate Tra poco non lo puoi più fare No Zitti zitti Signori 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 Raga, devi mettere quella di Jurassic Park, devi mettere No, aspetta Devi mettere quella di Jurassic Park, devi mettere Ma ragazzo, guarda Ma ma sono tutte queste le quali Aspetta, raga, portatemi via Io ho un po' di povera Ok, salgo Ok, ok, hai una ragione, hai una ragione, mi metto sul tettuccio, vai Amicile, vai Sono vostro Ma che cosa sto vedendo Sono Nikto e gli altri Oggi pomeriggio stavo giocando con mio fratello Sono arrivati loro, si è impanicato mio fratello Aspetta, mi stanno dando i soldi per la... Mi stanno dando i soldi per ressarvi, raga Numeri uno Oh no Ti ho dato una paghitta, non ho dato No, l'arva non mi serve, che cazzo fa... Ma 3 e 3, aspetta Raga, mi fate da guardie del corpo? Per favore Ecco, la sorpresa era questa comunque Non pensavo arrivassero subito Ma sono due giorni Quanto è che li becchiamo Ma io sogno una lobby dove tutti vedono questi camion e nessuno spara Tu non lo sai, ma io quando sono tornato... No, io l'ho detto anch'io, ragazzi Se vedete nelle lobby camion rosa, non sparate Sono amici Non sbrutate È lontano E G, prendi tipo questo Sta arrivando un veicolo là, zi Oh, bello Affami Astrozi Poverino Poverino, raga Ma che cazzo? Sarà tipo... La nostra squadra è in seguita, ragazzi La nostra squadra è in seguita Siamo in 62, Fra, non me ne frega un cazzo Posso dirtelo Dica che i venia, dica che i venia Venite qua, basta Ma stanno sparando solo a me Ma ragazzi, ma dai, me lo disteso Questo è un hacker Sicuro Aspetta Scusate, è uno stranuto Uno dentro l'hangar Oh, è un hacker Eh, ve l'ho detto Di già? Ha fatto un flick pazzesco, Fra Può essere, ma non l'hai detto No, Fra Gli ho sparato Ma ha fatto un flick Sì, accetta Gli ho fatto un flick devastante, raga Sì, 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 guarda Ha fatto lo scatto Ha pure smirato No, questo ce lo godiamo, ragazzi Sì, sì, sì Questo ce lo guardiamo Voglio mandare un bacione A Nikdo e a tutti gli altri, però, eh Numero 1, cazzo No, raga A me considerate che Mentre stava mirando Ha fatto lo scattino sopra-sotto Cioè, proprio Lo scatto quello senza fotogrammi No, tranquillo, tranquillo A me ha fatto tutti headshot E poi ha smirato palesemente Andando tipo sul muro Tipo brrrr Tipo così Guarda, 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 guarda Mamma mia No, ma cambia il codice nome, zio Guarda Vabbè, ragazzi L'avete visto? Quello con la bandiera Della bandiera Tutta skill, porco tu Vedi Che maiale Guarda, guarda come si viene apposta Sta facendo pure il glitch del coso Del bombardamento Guarda, guarda come locca Decidero ogni game Oh, che ha fatto? Che ha visto? Che cos'è sto bug? Scusatemi, ragazzi Non capito Sta fingendo di quickare Ma cosa fa? Guarda, guarda, guarda come inlocca Sta cercando di non lockare Invece glielo fate in automatico Mo' mi bandano per teaming Se bandano a noi per teaming Non si 4 scappai Ma va Ma vi pare Se bandano a noi per teaming Non bandano i cheater Bandano la gente per teaming Ma ma va Anzi, ma magari ci fosse un modo Tipo PUBG Che si potrebbe comunicare con le persone Io mi ricordo che quando troviamo i cheater Su PUBG Andiamo nelle case dove c'erano niente E facciamo ragazzi Siamo amichevoli C'è un cheater Vogliamo teamare per ucciderlo Cioè facciamo così noi Bellissimo Dovrebbero mettere la chat In prossimità tipo a 10 metri Il VoIP Il VoIP Bravo, bravo Sarebbe devastante Che tipo alla fine Nell'ultima Nell'ultima Eh, capito? Nell'ultima safe Sei dentro la casa Nascosto Tu sei sopra L'altro è sotto Ti parli Dici Scusami ma tu perché Sei sotto La star dei più fuori Ah minchia Minchia Cos'è che faceva Che mi sa che me l'avevi già raccontato Tu spottavi persone e oggetti Eh vabbè Fade Ha missato Contratto face subito per favore E così via Comunque è incredibile come si riesca a trovare il modo di andare a toccare nel codice del gioco in locale Per farlo funzionare in un server online Cioè quella è quella la roba incredibile Capisci? Guarda com'è l'occa No raga Sono solo bravi Sono solo bravi Boom Bello E' merone Ma quindi lui vede tipo un quadratino Vede la sua forma Ma raga ma un hitman è equitato? Mi ricordo E' citer Dove hai partecipato anche tu La C'ha ico Come si chiama Eh raga i quick di questo tipo qui Sono talmente forti Che io Sprat e Pamaggio Si contor Cioè sono Cosa sono Sprat e Pamaggio Scusatemi Apex No 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 Apex Apex Raga Apex Gli sviluppatori hanno creato un discord Con le persone più influenti I pro player Gli streamer Così Quella intelligente Voi ci date la clip Noi le esaminiamo le clip E poi procediamo al ban Se è uno da bannare Bravo Esattamente Qua rischiano tra l'altro Raga muoiono No non muoiono Il motivo che non vengono bannati Lo fanno palese Quindi soprattutto sarebbe anche una cazzata Secondo me A volte non glielo dicono Tipo quello che conoscevamo Io e Giorgio Uomo spalla Non glielo diceva agli amici Uomo spalla No non glielo diceva No vabbè ragazzi No vabbè ragazzi Ma cosa sto vedendo Cosa sto vedendo Aspetta scusami Ecco cosa sembrano i compagni Per essarlo Sto stupido Insomma Si è rotto le gambe Guarda 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 Ragazzi è imbarazzante Guarda dove glielo Guarda che li ha Hai visto che li ha lottato Automaticamente Oh si Oh cazzo Coglione Oh cazzo Fermi 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 Questi non quittano mi sa Fermi che magari li troviamo alla fine Godo raga Godo Ma raga li hanno ammazzati Quelli che hanno ammazzato me all'inizio Ma in che senso Come Io sto aspettando Fin dall'inizio Quelli che mi hanno ammazzato L'hanno ammazzato L'hanno ammazzato loro Hanno vinto loro Guys you killed the cheaters Deffy You killed the cheater Good shit man Basta Cagion rosa cazzo Ah mi vuol cicchiare Minca allora Vengo la di spacco di testata In faccia Capito Però lateralmente Vai let's go boys Andiamo Comunque scandalose con le cose No raga Arrivò subito ragazzi Easy 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 Sì è abbastanza immanazzante Come situazione Comunque E' abbastanza immanazzato